Pimpa va a Napoli. La cagnolina Appua Rossi creata dal TAN sarà la protagonista della nuova pubblicazione della collana di guide a misura di bambino edite da Franco Cosimo Panini editore. Nasce dalla collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali e con l'assessorato al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli. Pimpa finalmente arriva a Napoli. È una guida turistica per bambini dove cerchiamo di far conoscere la nostra città ed è stata una grande opportunità. Noi ringraziamo molto Franco Cosimo Panini per aver scelto anche Napoli che si aggiunge a tante altre città e non solo oggi presentiamo la guida. Cominiamo una serie di attività su tutto il territorio dal centro alla periferia con le realtà del nostro territorio, con le associazioni che si occupano di infanzia e di adolescenza dove ci saranno vari laboratori. Abbiamo organizzato eventi con il MAN e con tante altre realtà territoriali dove i bambini potranno conoscere la città e Napoli sarà a portata anche dei più piccoli. La protagonista di tante avventure e compagna di giochi amata dai bambini veste i panni di guida d'eccezione per visitare Napoli. La cagnolina accompagnerà i piccoli e grandi lettori alla scoperta delle meraviglie della città partenopea. Monumenti, musei, personaggi celebri e il Vesuvio con il suo parco naturale. Tra i vicoli e le piazze Pimpa incontrerà anche Pulcinella e la sirena partenope che le sveleranno leggende e tradizioni. Pimpa va a Napoli e una guida ricca di contenuti nella quale fotografie e fumetti uniscono il reale al fantastico e le attività proposte coinvolgono i lettori in un viaggio tra percorsi inediti della città. Pimpa va in giro per il mondo innanzitutto e girando per il mondo si accorta che l'Italia è molto più bella del resto del mondo e quindi da qualche anno gira per le varie città. Abbiamo questa collana infatti dedicata alle città e ai musei d'Italia dove Pimpa come piccolo testimonial, anzi come testimonial dei piccoli visitatori, fa proprio un viaggio nelle attività, nei luoghi, nelle curiosità, nelle caratteristiche principali delle città. Ci tengo a dire che è una collana che facciamo soprattutto rivolta ai bambini delle città stesse e non tanto ai turisti, ai bambini turisti. Ovviamente anche loro sono sempre contenti di visitare, di leggerla ma certamente noi la facciamo con l'intento di far conoscere meglio la propria città e piccoli cittadini. Sono previsti inoltre dieci giorni di eventi per i più piccoli e le loro famiglie, tutti ad ingresso gratuito. Dal 14 al 23 giugno musei, biblioteche, librerie e le vie della città si animeranno con attività, laboratori creativi e musicali, caccia al tesoro, visite guidate, merende con i dolci della tradizione. Un'opportunità per le famiglie per scoprire per la prima volta o riscoprire in modo inedito il MAN, il museo di Pietrarza, il Real Bosco di Capodimonte e passeggiare per le strade del centro con uno sguardo nuovo. Sì, è davvero una bella notizia. Tra l'altro so che era una cosa molto attesa perché mi ha detto la signora Panini che da tempo chiedevano che ci fosse la pimpa a Napoli. È uno strumento di promozione davvero molto particolare perché si rivolge ai bambini, diciamo anche ai bambini di ogni età perché secondo me è bello da sfogliare pure per gli adulti. È uno strumento che promuove la città verso, presso i più piccoli che così hanno la possibilità di conoscere la nostra città, i nostri parchi e perché no anche i musei perché poi se gliela sai raccontare bene anche l'archeologia, anche l'arte per i bambini diventa una questione di curiosità e quindi si appassionano ad esse. Dal 13 giugno la guida è disponibile online e in tutte le librerie e i bookshop d'Italia anche in lingua inglese. Sì, è una bellissima iniziativa che è stata curata insieme all'assessorato welfare di Luca Drapanese che ha quest'idea di far conoscere la città attraverso un personaggio dei cartoni che è tanto amato come la pimpa che farà conoscere i bambini e quindi alle loro famiglie ancora di più Napoli anche con una serie di iniziative sia sociali che turistiche ed è un modo per una Napoli che parla con tutti, con tutte le generazioni, con tutte le età, con tutte le lingue, con tutte le comunità. Una città aperta, inclusiva, accogliente. Noi dobbiamo partire dai bambini, dai tanti bambini napoletani ma anche i tanti bambini che vengono a Napoli che noi siamo sempre stati e vogliamo essere una città per i giovani. Grazie.